ahahahahah ahahah 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 ahahahahah oh che stai chi è che hai? sto oh ma che cazzo da parte? e fra domani io lavoro cazzo me ne è oh ma che cazzo ti devi sedere qua su di me lei non vuole che mi sedo qui cazzo me ne è cazzo anche a me cazzo anche a te no 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 guarda che è meglio questa questa sale cosa è? sale è forte buono sta fumando la foglia sta fumando la foglia ma riuona ecco il mezzo fratello che croce ma riuona con la testa in mezzo alle sue cosci non le toccare il clima con bar non sale questo non sale non sale non sale non sale non sale non sale minchia che botta non sale non sale non sale mi sto male sto sto male non ti dovresti sapere cosa ho? sto pure io sto male a me fa male lo stomaco a me mi fa male la testa la testa? sto morendo sto morendo fatti un giro dentro al mio cranio me le hanno date come il calendario un gatto nero nell'itinerario non sono morto ero da recaio mi piace il cazzo ma ti piace? si che sia nero sa bianco ma il tuo mi piace perchè sembra un pupazzo pupazzo può essere la posso toccare? non posso toccare niente ma lo dice la canzone cazzo kebab non la conosce? mi piace il cazzo il kebab rap rap no vabbè vado a cercare i cazzi più giovani testa di cazzo coglione hai un amico marocchino ti ha insegnato solo parolacce a mandare a fare in culo e forse forse anche a dire grazie bravo salam alek salam alek salam riglio piace salam riglio? si buono coglione sono un negro terrorista culo bianco l'altro banglamo social dove sei io? qua no e io? a catania nei paesi alti coglione lei è un uomo davvero carino oh ma non te ne vai oh ma che specchio di sciamone tu me lo può dare il suo numero no ma che specchio di sciamone tu no ma che specchio di sciamone tu me lo può dare il suo numero oh ma che cosa vuoi? vedo diamanti in questo fango buona assati in mango vai vai fatti una passata